Ma o Pace Eterno, a via prevista tutta sambroglia? Ecco, questa è la domanda che ci facciamo tutti. E c'è solo un uomo che può rispondere a questa domanda. Ma o Pace Eterno, a via prevista tutta sambroglia? A via prevista che gli innocenti subiscono tante ingiustizie? I bambini, i piccoli, gli indifesi, i deboli, vengono continuamente zambati su tutti i piedi? Ecco, o Pace Eterno, a via prevista tutta sambroglia? A via prevista tutte queste guerre? Tutta sta violenza? Sì, a via prevista tutta sambroglia, cari amici. Chi ne ha fatto un zè sbagliato? A via prevista tutta sambroglia. N'ha fatto liberi di sbagliare, liberi puro e di ammazzare. Chi ne ha fatto un zè sbagliato? E ne cocia a tutti di ingiusti e subrodo. Ne giracchiano da assacquadare a tutti. Unde ne ha presse, ne sa aspettare. Chi ne ha fatto non si è sbagliato. E ne vuole bene, veramente. E fino all'ultimo ne perdona. Tutti, tutti all'Ugielo ne vuole portare. Specialmente quelli più ignoranti, quelli più rozzi, quelli più rustici. Che uno non è che decide di diventare terrorista. Non è che noi decidiamo molto, amici miei. Perché nessuno viene al mondo per sua scelta. E se sceglie la mamma, se sceglie l'upate, se sceglie la religione, se sceglie la posizione sociale, la cultura, davvero. E ognuno si ritrova a quello che è, amici. Lo dice benissimo Renato Zero in questa canzone bellissima. Nessuno viene al mondo per sua scelta. Non è questione di buona volontà. Non per meriti si nasce. E non è neanche uno peccato che sa descontare. Combatte ognuno come ne è capace. Ecco perché non bisogna abusare della debolezza e dell'ignoranza di tanti nostri fratelli. Che sono ignoranti di tante cose. E quindi bisogna aiutare gli ignoranti, quelli che non conoscono. Non bisogna sfotterli più di tanto. Perché non facciamo bene, carissimi amici. Allora, buon padre tennavi è prevista tutta San Broglie. L'altro giorno al carcere in una cella, saluto anzi, Francesco, Kevin e Mario. Ripercorravamo questo testo della canzone che sta incominciando ad entrare nelle menti e nei cuori. Saluto tutti i miei amici in carcere. Anzi, ho portato anche il calendario che lunedì, domani, darò a tutte quante, a tutte le celle. Vedete qua questo calendario bellissimo. Con il Papa Francesco che abbraccia un giovane. E questa sua frase. Dice, per cambiare il mondo bisogna fare del bene a chi non è in grado di ricambiare. Quindi avviso tutti gli amici ristretti nel carcere di Cosenza che domani, lunedì, passerò a distribuire un calendario di questo in ogni cella. Allora, carissimi amici. Forza, forza che oggi è domenica, il giorno in cui Gesù Cristo ha vinto la morte, è risorto, l'hanno incominciato a vedere risorto da morte. E prima di accostarci al Vangelo di questa domenica, ascoltiamo Papa Francesco riguardo alla madre, alle madri. Ha detto qualcosa di bellissimo, sentiamocelo. Questo lo dico specialmente a voi, cari amici in carcere, che sentite tanto la mancanza delle vostre madri. Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della pratica religiosa. Nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è iscritto il valore della fede nella vita di un essere umano. Bellissimo, le madri, anche nei momenti peggiori, sono capaci di tenerezza, di attenzione, di amore. Ecco, questa parola di cui non dobbiamo avere paura, perché, come diceva Jacopone da Todi, amore, amore, omnecosa conclama, ogni cosa, ma soprattutto ogni pianta, ogni animale, ma più di tutti ogni uomo ha bisogno di amore. E quando non si riceve l'amore nel modo giusto, ci si incarognisce, poi si possono commettere le cose più assurde che vediamo, che accadono, per una mancanza d'amore, per una mancanza di conoscenza. Ecco, l'altro giorno la liturgia diceva, carissimi, se Dio ci ha amati così, da dare la sua vita per noi, da sacrificarsi per noi, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ecco, questo è il cristianesimo, non è una religione tra le altre. E' incontrare qualcuno, ma non uno, gruppi di persone, comunità, dove si sperimenta questo amore, ci si ama come si è stati amati. Ecco, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, ma noi che abbiamo visto che Dio ci ha amati così. Gesù ha mandato nel mondo i suoi apostoli che erano stati con lui tre anni e che lo avevano abbandonato perché non ce l'avevano fatta. E che lui ha perdonato. Ecco perché Gesù dà il comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Chi non conosce l'amore di Dio attraverso Gesù Cristo è difficile che può volere veramente bene all'altro. Perché? Perché Dio nessuno l'ha mai visto. Se ci amiamo, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. Non i discorsi perfetti, non le leggi perfetti, ma l'amore, la capacità anche di sopportazione e di aiutare l'altro ad elevarsi, non a fossarlo. Ecco quante violenze ci sono nel mondo. In questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi. Egli ci ha donato il suo spirito. Ecco chiunque confessa che Gesù, Gesù non è un profeta solamente. Ecco gli nostri fratelli islamici onorano, venerano Gesù come profeta. E' guai se si tocca a Gesù anche a un musulmano o a sua madre Maria. Ma non credono che Gesù è il figlio di Dio. Come i nostri fratelli ebrei non credono che Gesù è il figlio di Dio. Ma anche noi che ci diciamo cristiani, che siamo battezzati, comunicati, cresimati, sposati alla chiesa, facciamo i funerali, le messe e i murti. Non è che ci crediamo a Gesù Cristo. Capite? Questa è la crisi che stiamo vivendo. L'Europa è stata civilizzata proprio da questa visione della vita, della visione della vita cristiana che ha Dio al centro. E' Cristo che ci rivela il vero volto di Dio. Chi crede che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Non un discorso di Dio, ma l'amore di Dio rimane in noi. San Pietro non ha portato i suoi studi che ha fatto in Palestina. In Palestina ha fatto un pescatore. A Roma è venuto a morire in chiuvata, a una croce, a ne testimoniare che si può morire in grazia di Dio, perdonando chi ne ammazza. Ecco, questa è una follia del cristianesimo, amici miei. E noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Che ci insegnano se maestre d'asilo, se maestre alla scuola, alle scuole medie, alle scuole superiori? Che ci insegna a fare amore e l'educazione sessuale? Ma non ci insegnano a volersi bene, a sapersi rispettare con i compagni di classe. Se insegnano l'educazione sessuale, tutti i chiorite su munno e non li riesciano a pigliare né da capo né da cute, i guaglioni, i bambini, i ragazzi, che stanno diventando sempre più agitati, amici miei. Perché siamo noi che li deludiamo. Perché? Perché ancora, già su munno, e persone che conoscerono poco poco a Gesù Cristo, su pochissime. E l'invidia sempre cresce. Chi ne è tanto e chi ne è niente. Chi ne è biel, chi ne è brutto, chi ne vince, chi ne perde. Concorrenza dappertutto, lotta. C'è un sacco di confusione di entrare a capo e tanta gente. Pensate alla confusione di chi si caga e ammazzate tutte le persone alla Francia. Quanta confusione, di idee sbagliate di Dio. C'è un sacco di confusione. Ma pure i giovani nostri, c'è tanta violenza. C'è paura e delusione di entrare a capo e troppa gente. E si finisce le nostre, sono confusi più di tutti. E non riescono a capire quando è giorno e quando è notte. Sono delusi e noi, più grandi. Diciamo, parliamo, parliamo, facciamo le prediche, le mamme, i padri, i priepeti, i professori alla scuola, i politici. Ma un gridi mannente. E tanto male ne facciamo. E così un aiuto alla Madonna. Carissimi amici, noi riprendiamo sempre i messaggi della Madonna. L'ultimo ve lo ricordate? Quello del 2 gennaio. Che cosa meravigliosa. Dice, io quando i signori stati sopra la terra, ha detto la Madonna, no? Io avevo vissuto un pezzettino di paradiso. Perché c'era Gesù, c'era Giuseppe, mio marito. Ed era un pezzettino di paradiso. Ecco, io desidero per voi la stessa cosa, amici miei carissimi. La Madonna desidera che noi qui sulla terra viviamo un pezzettino di paradiso. Come? Trattandoci in modo adeguato. Noi che siamo peccatori. Ecco, veniamo al Vangelo di oggi.